Ben ritrovati, seconda puntata della vita di Dante. Il 1300 fu per Dante un anno particolarmente importante. Dante interviene direttamente nella vita politica del suo comune e raggiunge nell'estate la massima carica, diventa cioè uno dei sei priori e come priore deve sedare il contrasto tra i guelfi bianchi e i guelfi neri, essendo cioè l'autorità superiore deve essere imparziale. Come tale vota per l'esilio dei capi bianchi e neri, scontentando sostanzialmente tutti e attirandosi le ire di entrambe le fazioni. Ora nel 1301 in settembre parla più volte a difesa della libertà del comune contro le mire del Papa Bonifacio VIII di invadere Firenze e di impadronirsi tra l'altro di tutta la Toscana. Questo era il suo obiettivo. Proprio in autunno, nell'autunno del 1301, viene inviato come ambasciatore a Roma per tentare di persuadere il Papa ad esistere dal suo progetto. Ma questa ambasceria non ottiene alcun risultato. Nel 1302, quando Dante è ancora, nel gennaio del 1302, quando Dante è ancora lontano da Firenze, riceve questa, viene colpito da questa condanna in contumacia all'esilio di due anni. Ora, non essendosi presentato ai giudici, due mesi dopo viene condannato al rogo e alla confisca di tutti i beni. Incominciano così i vent'anni d'esilio, perché la vita di Dante è divisa nettamente in due momenti. Ecco, questi ultimi vent'anni che gli restano da vivere saranno lontani da Firenze. Dante a Firenze non tornerà mai più. Allora, ci sono agli inizi del 1300 alcuni tentativi da parte dei bianchi fuoriusciti di rientrare con la forza a Firenze, ma sono tutti i tentativi destinati a fallire. Difatti i neri appoggiati dal Papa sono diventati signori della città. Non resta che andarsene. Allora, il primo suo rifugio, il primo ostello, come lo chiama così Dante, è Verona, la città della Scala. Difatti Dante è ospite per un certo tempo di Bartolomeo della Scala. Ora, Dante tra l'altro soggiorna dopo Verona in alcune città del nord. È a Treviso, è a Padova, è a Reggio e poi successivamente per alcuni anni è ospite in Lunigiana, che è questa terra tra la Liguria e la Toscana, ospite dei signori Malaspina, che lo accolgono, che lo trattano con tutti gli onori, ospitandoli nei vari castelli che posseggono in questi luoghi. E intorno al 1308 si suppone che Dante finisca la stesura dell'Inferno. Inferno e Purgatorio, che sono le prime due cantiche della Commedia, vengono di fatti pubblicate a Verona e da Verona appunto si diffondono per tutta l'Italia. Ecco, il 1310 è per Dante un anno di grandi speranze. Perché? Perché scende in Italia l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, che promette di riportare pace e giustizia nella penisola. E come tale invia addirittura un'epistola ai signori d'Italia, invitandole ad accoglierlo con tutti gli onori. Ora però, Dante tra l'altro oramai si è avvicinato alle fila dei Ghibellini. Ecco, sostiene appunto l'autorità imperiale. L'azione però di Arrigo VII di Lussemburgo è vanificata dalla sua improvvisa morte. Siamo nel 1313 e Dante a questo punto ritorna a Verona. Questa volta signore di Verona è can grande della scala, a cui tra l'altro sarà dedicata l'ultima cantica, appunto il Paradiso. Qui naturalmente la sua fama si è accresciuta, è considerato non solo un poeta, ma anche uno scienziato, tiene addirittura delle conferenze, viene appunto pubblicato il Purgatorio. Nel 1315 rifiuta un'amnestia. Firenze lo riaccoglierebbe posto che chiedesse perdono, cospargesse il capo di cenere, Dante rifiuta e non tornerà appunto mai più. Allora, l'ultimo luogo di esilio è Ravenna. Questa volta è ospite dei Dapolenta, signore appunto di Ravenna. Lo raggiungono i figli, Jacopo e Pietro, perché anche i figli sono stati esiliati come il padre in seguito a questo suo rifiuto di amnistia. Allora, circondato da generale ammirazione, conclude il Paradiso. E arriviamo al fatale 1321. È l'anno appunto della morte. È stato inviato come ambasciatore appunto a Venezia e di ritorno da questa ambasceria, si sente male, probabilmente ha contratto la malaria, fatto sta che muore nella notte tra il 13 e il 14 di settembre del 1321 e viene sepolto nella chiesa ora di San Francesco. Ma non è finita qui, anche da morto non ha riposo. Difatti ben presto queste ossa, al momento insomma in cui, insomma Firenze vuole le ossa del suo illustre concittadino, siamo nel 400, poi si arriva al 500, finalmente per intercessione del Papa Ravenna sarebbe disposta a restituire i resti, insomma le spoglie mortali di Dante. Solo che quando aprono il sepolcro non trovano assolutamente nulla. Dove sono andate a finire le ossa di Dante? Allora dobbiamo addirittura aspettare fino al 1865 quando nel corso di restauri nella chiesa di San Francesco di Ravenna un muratore casualmente rompendo un muro trova una cassetta con scritto sopra ossa di Dante e all'interno una lettera in cui si certifica che si tratta effettivamente delle ossa del sommo poeta. Allora finalmente le sue ossa giacciono attualmente, sono state sepolte nel cimitero di Ravenna e nonostante le richieste di Firenze sono rimaste appunto in questa città. Firenze si è accontentata di erigere questa grande tomba nella chiesa di Santa Croce di Firenze ma è una tomba molto bella ma vuota, cioè sostanzialmente un cenotaffio. Buon proseguimento a questo punto di questo piccolo intervento, questa piccola celebrazione di Dante e adesso parleremo della commedia. La prossima puntata. Arrivederci.